Per Full Art Immersion parliamo di Rossana Grasso, un'artista siciliana che peraltro è anche laureata in scienze politiche, che a un certo punto approcciando l'arte deve trovare una sua personale dimensione, realizzando una ricerca di quello che lei definisce il mio io artistico. Naturalmente lo stile delle opere di Rossana Grasso è lo stile realistico, avvicinandosi spesso o riuscendo addirittura ad arrivarci in altri casi alla pittura iperrealistica. E' proprio questo il desiderio di esprimersi nell'arte di Rossana Grasso, una pittura peraltro iperrealismo e realismo che richiede una particolare attenzione, particolari difficoltà tecniche, una pazienza enorme, ore di lavoro. Insomma è un modo di lavorare nella pittura particolarmente complicato, proprio anche dal punto di vista operativo. Rossana Grasso ha ricevuto innumerevoli premi, è stata pubblicata su riviste, alcune pubblicazioni insomma hanno parlato della sua pittura. E' una pittura quella di Rossana Grasso dove appunto riusciamo a cogliere dei soggetti che sono espressi in queste gradevoli situazioni dove innanzitutto spesso e volentieri vediamo delle trasparenze, la trasparenza del vetro, la trasparenza di qualcosa che al di là della difficoltà tecnica appunto per riuscire a realizzare dei soggetti di questo genere e di riuscire a realizzare le trasparenze danno sicuramente un senso di gradevolezza, di stupore, di bellezza. Nella pittura queste cose sono sempre ovviamente piacevoli. I soggetti tipici della pittura di Rossana Grasso sono i piccoli animali, il cibo, la natura, cose che appartengono a quello che lei vede ma è una visione interiore. Una visione interiore al punto tale che non c'è nessun indugio a un compiacimento perché Rossana Grasso dipinge prima di ogni altra cosa per una questione di soddisfazione personale ma siamo sicuri che la soddisfazione è senz'altro anche di chi ammira le sue opere. Per Full Art Immersion abbiamo parlato di Rossana Grasso.